Il potere può trasformare una persona in un mostro, Richard. Tu lo devi evitare. Lo capisci? Dottor Clear, vogliamo ringraziarla per aver contattato l'FBI in merito ai suoi sospetti su Richard Jewel. E perché hai questa passione? Perché mi piace fornire protezione alle persone. Hai un bel coraggio a venire qui. Jewel non può aver fatto la chiamata. È impossibile. Ragazzo, le autorità ti aspettano fuori da quella finestra per farti a pezzi. Grazie. 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 Grazie.